Per associare il widget a Classroom di Google, dal pulsante Share, una volta che ovviamente avete creato il widget, Send to Google Classroom. Utilizzate questa opzione per connettervi al vostro account Google e quindi finite le operazioni di associazione dell'account, ovviamente dovete selezionare un corso e poi stabilire in questo corso se volete inviarlo direttamente come compito oppure sempre come compito ma come bozza da utilizzare in seguito. Il risultato sarà questo. Fra i lavori del corso ecco che il widget appare come bozza inserita a tutti gli effetti nel compito di Classroom e quindi potete assegnare una data di scadenza, assegnarla a un argomento e poi a questo punto inviarla agli studenti. Da qui in poi avrete tutte le caratteristiche tipiche del controllo di compiti attraverso la G Suite di Google e l'ambiente Classroom.